Visto bambini, avevo ragione io, la standa è la scuola più grande dell'Italia, vediamo cosa hai preso. Io ho comprato questo, ho pagato fortissimo. Ah, uno zainetto fantastico, e tu cosa hai comprato? Ho comprato questo. Oh ma che belli, gli adulto disegno, una felpa. E tu cosa hai preso? Questo. Ah, l'astuccio del grande assortimento standa. E voi cosa avete comprato? E noi, tutti questi. Ah, penne e penarelle a volontà. E tu piccolino, cosa hai preso? E vabbè, ma allora ditelo. Vieni alla standa, la casa degli italiani.